Cosa è uno scaldabagno? Che cosa? Dicevo che non sta bene oggi Ah E ciao a tutti ed ecco in questo nuovissimo video di Minecraft Questo è il quinto episodio della survival in compagnia di Matteo Ciao Albi Ciao E io Bella Bene allora nel discorso episodio io ho finito di costruire la casa E devo dire che è venuta veramente carina Poi in questo episodio che facciamo? Eh bisogna intanto arredare la casa Sì vabbè quella pianta nina si fa Vabbè sì bisogna fare tipo il piano sotterraneo eccetera E poi fanculo sono franco Io ho ancora l'inventario pieno della roba franco Ok rieccomi Ehm un attimo Ok E poi Poi Sono le varie stanze Poi Ehm vabbè penso basti così per un video no? Pure Mentre io Atlas e Yub recuperiamo gli animali direi Ecco A caccia di animali Esatto Perciò Tanto siccome è noioso vedere noi che andiamo a caccia di mucche Ehm andiamo Allora prendiamo tutto il grano possibile I semi Tolti Ehm e Ok Vabbè Ciao Grazie a tutti. 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 No, non me lo dire. Cosa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao.